Salve signore Che cosa vuoi? Salve signore Dobbiamo cominciare bene Che devi fa? Avrei molta fame Non è che ti andrebbe di farmi qualcosa da mangiare Simo? Si Si Meno male grazie Simo Sei una bravissima persona Oggi ragazzi faremo una cosa molto simile a una giornata dei contrari In poche parole se qualcuno vuole dire a una cosa si dice di no E se qualcuno vuole dire una cosa di no dice di si Però ovviamente ragazzi Tocca essere sinceri Giusto per farvi un esempio Hai voglia di farmi 50 salti sul posto? Si Ha proprio voglia Certo come no Ti conti tu Si va bene 10 13 14 15 16 17 18 19 20 17 48 49 50 Signore ma La mia colazione Certamente Almeno delle uova qualcosa Dopotutto hai accettato Simoncino Simoncino Vuoi una mano? No No Ma non vale Simo te vedo molto contento Ma che vuoi? Ti hai tirato fuori No dai C'è del pane Si vuole Sai che se vuoi la guerra oggi si può fare tranquillamente la guerra eh Io ho cercato di farla in maniera più pacifica possibile Ma se te la vuoi giocare in questo modo Ma non è vero Sono pacifica anch'io Te sto a fare la colazione Oltretutto C'è una ceppa dentro al tuo maledetto frigo Ma a questo punto ci stanno le uova t'ho detto A questo punto ci stanno le uova Ma a questo punto ci stanno le uova Ho visto Comunque raga Dato che non l'abbiamo fatto nel video precedente Volevo presentarvi Kamil Che non l'avete ancora visto Ciao raga E il nostro cameraman talent Che Io ci provo eh Esatto Salve Ecco qua giusto così per farvi sapere chi è chi Chi sono chi Però magari ci lo metto anche un po' più spesso Non dire nulla ti do una mano io Va bene? Non dire niente Non dire niente Ma secondo voi Lo vorrà il tabasco? Vadi Chi è di glielo? Sì Palese Sfruttiamo il fatto che non c'è Nel momento non c'è Questo lui non lo saprà mai Lo saprà quando lo mangia Lo saprà quando lo mangia Lo saprà Mi sa che i cetronini non serviranno Dato che il profumo ci ha messo mano Dai c'è roba buona da mangiare C'è roba buona da mangiare La faccio solo Simo mi aiuteresti a mangiare questa deliziosa frittata? Poi non è una frittata Aspetta Sappi una cosa io non ci ho messo i cetrioli perché qualcuno ci ha messo mano sappilo Mi aiuteresti a mangiare questa deliziosa colazione? Sì Sì Meno male Non è peperoncino vero? Doppia negazione come dovrebbe rispondere? Sì Doppia negazione Non è peperoncino? Sì o no dovrebbe essere? Non è peperoncino Sì Non è peperoncino Però è una domanda retorica Senti la fai bene E' peperoncino? Sì Madonna che casino C'è un casino Ci si incognisce un sacco E' pensare che io neanche ho messo i cetrioli Eh lo so Però due sono troppi Simo capito Mica me ne mangio due ne volevo soltanto uno Ma ma che ci hai messo? Cioè io lo provo adesso ma poi mi devi dire che cosa ci hai messo Ma te lo dico anche adesso ci ho messo un po' di tabasco Sapevo che ti piaceva tanto me l'hanno detto loro io l'ho messo E quella sembra un po' piccante Ah ma sti cavoli Eh infatti mi hanno detto che ti piace Ah ho capito No 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 Mi vuoi un po' di più Sì grazie mille Come sono sempre qua per sopportarti Basta che chiedi Sei il mio eroe Di più? Sì Ma sei sicuro? Sì Ma Robè ma che fa male? No Basta finisco io perchè poi mori Ma dove? No raga c'ha un odore C'ha un odore che mi ha bruciato le cose eh Ha un odore potentissimo mamma mia Ti spacca Ti spacca adesso ti uccide Non ce la fai? È fortissimo Mi è entrato nel naso No mi sono avvicinato troppo mi è entrato nel naso proprio Ragazzi ce l'avreste con me se lo buttassi? No Io no Tu? No Però è un peccato Ah tu ce l'hai Vabbè siamo in due Siamo in due contro uno Aspetta aspetta fidi a Romeo Ce l'avresti con me se lo buttassi Romeo? No Tre contro uno Mori infame In realtà regà Tra tutti quanti Simone è stato quello che tecnicamente non ce l'avrebbe avuta con me quindi Eh però alla fine ci si è messo di impegno quindi Vabbè Dai E' stato onesto bravo E' stato onesto come minimo Però che peccato Ho voluto proprio vedere la reazione delle due popille gustative Ne proviamo entrambi con una forchettata? Si Ok Schifo però Prendo una forchettata io e una forchettata te Altre? Altre io te l'ho messo Vai 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 Mi piace Ah Non è un po' loco No Il fatto è che fa schifo il tabasco Fa schifo il tabasco che quello è fatto bene Fa proprio schifo No Regà Stiamo a sgravar qua comunque Dovremmo essere un pochetto più Misericordiosi uno con l'altro Ho capito? Io devo fare una scena che Me la sto preparata tutta la mattinata con Simone Oddio santo No no la voglio fare adesso Non vuoi spiegare No Io te lo dico perchè ti avviso Prova me Qual è il tuo manga preferito? Tiè si questo Ma sei sicuro? Mhm Perchè a me gira Cioè a me mi hanno detto in realtà che a te piace poco uno pico Ti piace giusto? Simo Simo A me non piace per niente però so che a te piace proprio Giusto? Posso dire no comment? No Mi dispiace Devi rispondere Mi dispiace Simo Sì Simo Detto questo Ti giuro che io oggi non ti dico più niente Io mi ero preparato a sta cosa e basta Regà Io vi giuro Questa per Simone Se lo guardi in faccia È proprio l'essenza della sconfitta Vabbè mi ero preoccupata Mi ha detto Manga preferito pensavo in queste E io pure pensavo che il tuo volo si distrugge Magari prendete uno e distrugge Ma ecco perchè mi hai dato baruto Stavo prendendo il doppione Che posta Mi rimangio tutto quello che ho detto Gli rifaccio i prank Regà Avete mai giocato a uno? Sì 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 Da Come si regà Simone Simone Giochi questo turno? Sì 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 C***o Sbagliato Quindi mi tocca aspettare adesso Sì È vero porco E non lo sei a testa giusto? No No Vada per Vada un numero a caso Così Così Bastano questi In che senso andiamo? Quindi orario? No Inizio io a moccar tutti quanti Ci manca poco Anche poco Mancano poche carte Com'è che si vinceva sto gioco? Eh non lo so Tocca a me Ah vero porco mio Uno E ho vinto Ma quindi hai vinto? Sì Ho vinto io No Quindi ho perso Sei dispiaciuto dell'esito della partita? No Non ho rosicato assolutamente Ah buona sta perci Meglio Proprio che stai a fare? Ammazzo il tempo C'è Vadim che non si fa vedere da due e mezza Fammo qualcosa Uno o un'altra partita Ma la faccio manco morto Onesto eh Sicuro? Già è proprio poco stabile eh Ma guarda che sei stato io Ha torto di più Tutto a posto ca? Sì? Si Se vede Oh Brava Signor Che ne diresti che muove questo? Mi sembra la via più Tornata affatto L'hai già fatto? Signor però dovresti aspettare Dovresti aspettare la fine della mia frase sai? Lei è un po' un bastardo La velocità in guerra è tanta roba Sì 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 Quando ti conviene C'è questo qui che potresti sfilarlo senza problemi Quale? Questo qui Non lo vedo Questo qui Ah dici questo? No no questo qui Oh la velocità in guerra è la cosa fondamentale Quando ti conviene eh Oh signor Ma ti ricordi quello che mi dicevi poco prima? Quale? Ah la velocità in guerra è la cosa fondamentale Oh ca? Ti ricordi quello che diceva poco arti Simone? Sì sì dì Ah l'hai visto? No Sì cosa? Questo qui questo qui lo vedi? Buon basimo Se avessi seguito il consiglio Se avessi seguito il consiglio Se avessi seguito il consiglio allora sarebbe andato stra bene Oh Se fa bucchè eh? Dica a me Che ne diresti se ci guidiamo la macchina insieme? Però guido io Eh? Allora Fai la premessa Normalmente avrei risposto di no perché non ho problemi a far guidare le macchine alle persone Il problema è che Profumo ha preso la patente da tipo due settimane o una settimana Quindi Sì Va bene Sono contentissimo Andiamo a sbattere No Ma come cazzo ti sei messo Romeo? Mi cazzo No niente non ti preoccupa è tutto a posto Andiamo Sì sì Sai adesso mi sento decisamente al sicuro E come te la metti la cinta? Sarà bello Sarà complesso E morirò di caldo Però va bene così Ok Ecco qua Ragazzi la sicurezza prima di tutto La cintura è tutto Vero Romeo che la sicurezza prima di tutto? Assolutamente no Ma tipo va addosso alla macchina di Simone Se potrebbe Attento attento Almeno qua c'è i sensori non dovresti morire suppongo Mi stai a fappiare il palo qua eh No Romeo Vediamo l'altro palo come lo prende attenzione Perfetto Allora Romeo Si magna come cosa di Simone Madonna la salita qua moriamo Certo che è vero che quando dicevi che facevo fatica in salita a accelerare Sì Stavo col piede pigiato eh Stavo detto Massimo Eh Romeo queste sono le macchine Caldo No il caldo ha vinto regà Il caldo ha vinto sulla paura di morire Sto Sto a schiumare Dai che sta per finire Mamma mia Ok Mamma mia stavo a morire Terra Stavo seriamente morendo Romeo Sei bravissimo eh Sei bravissimo È vero che è bravissimo regà Sì Sì Insomma qua hai fatto tutto il matto eh Ma non sarei andato nell'artagossia Quella erano delle cose tranquillissime Sei tu che stai a volare un attimo eh Mamma mia nonna non sarei andato nell'artagossia Ah Simo ma la vuoi quella? Ti serve la Monster? No No non ti serve perché è peccato Io pensavo che tu volessi il te verde E io pure Ah vuoi il te verde Vuoi il te verde? Sì Te lo prendo io se vuoi questo eh Sì voglio il te verde No Ma vuoi che te lo prenda lui? Te lo prendo sempre io? No Ok ma scherzi ho fatto con te il te verde Però me è rimasto colpito dal viaggio in macchina Regà Sì Anche perché Ecco il te verde L'hai sponato Non ci credo È un segno È un segno È un segno Era un segno Che probabilità c'era che tu ci stavano Sono ricciappato proprio sul te verde Tra tutte le cose qual era la probabilità che inciampasse sul te verde ma dai Regà se andiamo a piampanino Io ci vado Io ci vado Giorno Qual è la pizza un po' più calda Un po' più uscita Diciamo di recente Ce l'ha col prosciutto crudo? Una pizzetta bianca col prosciutto crudo? Altro? Sì Mi ha fatto altro? Sì Altro E poi Questo E poi Io gli ho detto tipo Ce l'ha la col prosciutto Col prosciutto Mangiamo tutti Mangiamo tutti È tanto Vabbè sì ci sta Abbiamo il stranto regà Capivi fame quindi eh? Eh no 10 euro Cà Dai spazio A te che ancora non ti è successo nulla Lo so che sta per succedere Che ne dici? Vorresti pagare tu? Te lo posso? Sì Noi non ci abbiamo contanti al momento Sono me ti vogliamo bene Ma proprio spontaneamente Ti porteremo sempre quando andiamo da qualche parte Regà se mettiamo alle panchine qui al sole? Ottima idea Bello Bellissimo Sai è una delle cose migliori che potevi fare Simo comunque Le tue idee sono Essenzialmente ogni volta Farci incasinare Tutti quanti Te compreso Non so quanto te convenga eh Segno se ingozzi La prego Non si strozzi E com'è? Sì invece lo farò Lo farò più brutto Certo siete proprio passati forti eh A lui non gli dite niente quando guida E beh Non ve regge Lui ha scalato le marci credo Guarda ripeto il parete che se scalavo la ma... Cioè se passavo da quarta... Da seconda a quinta la macchina d'amore Che sarà fermata eh In salita Quindi... Ho fatto il miracolo Non ho fatto il miracolo Miracolo Ho guidato come si guida normalmente Ecco A Meggiugori Sì a Meggiugori eh A Roma Centro Miracolo a Roma Centro Nuovo film Prossimamente nei cinema A Natale Addio Guardate quanto è pieno di gioia Porco due Questo ragazzo Ha la voglia di vivere negli occhi È vero che hai voglia di vivere Simo? Sì Sì Perché non hai voglia di vivere? Ti voglio fare un regalo Tieni Te lo tieni per tutto il giorno Simo? Dai almeno per la... Che sta poco bene Per la pertinenza al mare Sì lo è Te lo tieni per la pertinenza al mare Se cade da solo Se cade da solo sono c***o su Nooo Zoom al marchio Eh Uno ci prova Non mi piace No Non me lo date Oddio Non me lo date a casa Leonardo Profumo Non so perché Ma credo verrà presa fuori contesto soltanto l'audio Non me la date No Ah non ci avevo pensato Raga come mi sentite dopo Tutta la giornata Di camminate a caso Io sto distrutto È un peccato Distrutto Sì No raga non è andata malissimo Sono stati bene Simone ci hai abbandonati È un infame Volevamo fare una bella cenetta insieme Sì Invece gli abbiamo detto tipo puoi mangiare con noi No E sei andato Che cavolo Che s*****o Eh io ragazzi veramente non ce la posso fa' Purtroppo il problema ragazzi è che ci si è scaricata la videocamera mentre stavamo registrando E quindi un botto di cose tipo che abbiamo fatto oggi non le vedete perché qualcuno A cui ho chiesto di prendere lo zaino Simone Non ha preso le batterie Ma proprio in questo momento C'è con me qua Rame ma quindi ti puoi sciacquare quel sapone dalla faccia? No Meno male Dai Stiamo un pochetto così Com'è? Oh Come puoi esci qua? Si E' un po' un problema per me Un momento Non c'è di niente Stai calmo Calmo No vabbè a tatto ci vado Eh si è tipo Gesù coi piedi Solo con la parte Mi sono perso qualcosa della Bibbia Gesù coi piedi Si Però Romè puoi anche lavarla e non bagnare Ecco capito così E che ne so io Sì ciao Sai non ho mai lavato la faccia di qualcuno Ma che fai mi mordi le dita Romè che c'è Mi sono toccato Ma forse il dito Vabbè c'ho fame C'ho fame Ho visto poi Ho visto un tizio con un panino Ho fatto ma vorrei mangiandolo io Vabbè Regà Ci vediamo più tardi suppongo Una volta che finito di rilucenare giusto Lo sai che mi sono addormentato le gambe? Si Sai cosa ci sarebbe adesso di perfetto? No abbiamo aspettato tutto Che sono sicuro che tu voglia fare Ti prego Altri venti salti No ti prego E' vero che puoi fare altri venti salti? Si Si? Meno male dai sono contento 8 9 20 Le vuoi fare 10 pressioni? Aspetta eh Dammi un secondo che fanno 30 Borgo Ma come faccio? Se morete Ok ma sta così che ti ammazzo Ma ricorda un po' quanto pesi 65 Ma io direi 65 ragazzi non ci capisci niente Sapete? Sapete quale sono fighe le pressioni? Eh Quelle tipo di intrecciate di gamba Eh vabbè sento mai Salgo 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 Ma ho preso per culo? Vai giù vai giù Ho preso per culo Pezzo del merda Vai vai giù come ho fatto io eh No 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 più giù Più giù Sta morendo Più giù Ah 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 Non flexo da un mese Non flexo da un mese Non flexo da un mese E dicono tutte così In realtà Tutte 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 con chi ti alleni C'è bella te eh comunque Simone Ah Fa tutte lui è l'unico Chi è? Da vicina? Da vicina Da vicina Da vicina? Sì Sì Beh effettivamente sì Se ci pensi Romè Ah pure ho risposto bene Pensa un po' Simo Simo comunque ho combinato un casino Che hai fatto? Ha accidentalmente cacciato Camila e il nostro camera mentre l'altro No ma che Sai che ho fatto che ho detto Ma quindi ci vediamo dopo? Ci dovevamo vedere dopo no? Se ho dovuto rispondere no? Sei proprio un pirro Sei proprio un implant Eh ho capito raga non l'ho fatta apposta mi sono dimenticato Che dovremmo fare scusa Ma non lo so In teoria non abbiamo più chi ci registra Quindi tecnicamente il video mi sa che facciamo prima a finirlo Signor? Ma quindi la fa l'outro? Ma sei l'infame Simo Sono dimenticato come fare l'outro ormai Simo Dai vedo voi Una zampata sul mi piace Sei l'infame Vieni a farla 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 Dai Vieni qua Facciamola insieme Forza Fai la zampata Fai la zampata Quindi ragazzi date una zampata sul mi piace No ma sai mi erano schifo Non so Sei bravissimo Tu erano schifo la zampata sul mi piace Sei bravissimo Niente vabbè raga Come sempre spero che vi sia piaciuto bla 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 Tutte le cose Ciao